Fare impresa in periodo di recessione è il convegno che abbiamo organizzato per domani, pomeriggio alle 17.30 a Palazzo San Michele, un convegno dove vogliamo approfondire le strategie che le aziende possono mettere in campo, soprattutto in questa fase storica, per cercare di aggredire i rispettivi mercati di riferimento e quindi aumentando il proprio business. Si tratta di un evento a cui parteciperanno relatori molto importanti, tra cui Massimo Berloni della Dondap e azionista di riferimento, Tonino Pencarelli, docente e ordinario all'Università di Urbino, Tommaso Di Sante, presidente provinciale della Coldiretti e membro della Giunta della Camera di Commercio Regionale e Vincenzo Borchia di Fineco. Quindi relatori che rispettivamente dai loro mondi cercheranno di dare uno spunto interessante per riflettere su un tema sicuramente molto sensibile e molto importante, soprattutto per l'economia nel nostro territorio, che in questa fase ha bisogno di competenze e idee per cercare di risalire e quindi di diventare un fiore all'occhiello. La partecipazione è gratuita, l'evento si terrà domani pomeriggio alle 17.30 a Palazzo San Michele, quindi auspichiamo in una buona presenza di pubblico. Quindi ricordo l'invito e soprattutto ci farebbe piacere se tanti potessero essere presenti, perché comunque l'evento è di regliero e quindi potrebbe essere sicuramente utile sentire un approfondimento di questo livello. Grazie.